E' stato ricevuto ieri nell'aula consigliare del comune di Gela, Samuele Di Natale, lo studente autistico che ha conseguito la maturità al liceo delle scienze umane Dante Lighieri con 100 centesimi. A conferire un omaggio al giovane gelese a coronamento dei suoi studi sono stati il sindaco Domenico Messinese, la giunta municipale e il consiglio comunale preseduto da Alessandra Ascia. Il quinquennio di studi che hai brillantemente superato al liceo delle scienze umane Dante Lighieri di Gela sia la strada maestra dei tuoi successi futuri. Le doti che hai mostrato in questa esperienza superando le difficoltà della vita, con il supporto costante della tua famiglia, fanno di te una persona straordinaria che ci dona un messaggio solidale e ci sprona ancora di più a lavorare nel nome dell'assistenza e dell'inclusione sociale. Così è scritto sulla pergamena donata a Samuele. Alle preoccupazioni sollevate dalla famiglia del giovane, il sindaco di Gela ha risposto annunciando il completamento dell'iter del progetto Dopo di noi da parte dello sportello unico delle attività produttive al comune di Gela. Verrà realizzata una struttura che potenzierà i servizi della sezione gelese dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici che in questi giorni ha festeggiato i suoi primi 40 anni dalla nascita. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela che ha sottolineato come la consapevolezza dell'autismo a Gela non si sia fermata solo al Blue Day del 2 aprile scorso.